Carissimi fratelli e sorelle, le benedizioni del Signore si riversino su di voi e vi accompagnino sempre e le benedizioni del Signore sovrabbondano quando noi ci mettiamo al servizio di Dio per annunciare la Sua parola, per comunicare la Sua grazia, per condurre le anime a Lui. Non c'è opera più grande davanti a Dio che salvare i propri fratelli. Ce lo ricorda San Giacomo nella sua prima lettera quando dice «Fratelli miei, se uno di voi si allontana dalla verità e un altro ve lo riconduce, costui sappia che chi riconduce un peccatore dalla sua via d'errore salverà l'anima propria dalla morte e coprirà una moltitudine di peccati». E' una grande verità, fratelli. Non c'è gioia più grande anche nella vita, condurre un'anima a Dio. E questa è l'evangelizzazione della Chiesa. E ricordiamo che tutti siamo chiamati a questo. Non c'è qualche anima eletta, chiamata ad operare per l'evangelizzazione. Se un cristiano l'evangelizza non è cristiano. Gesù vive in te e lo si vede da come tu apri la tua vita al bene altrui. Se questo non avviene c'è da dubitare che tu abbia uno spirito giusto. Questo perché? Perché nella natura di Dio amare, i doni di Dio si diffondono. Tu accendi un fiammifero e illumina gli altri. Se Cristo accende in te la sua fiamma d'amore, questo necessariamente deve illuminare, deve comunicare, deve partecipare questo bene agli altri. Noi, fratelli, dobbiamo uscire da quella mentalità che ci porta soltanto a senderci retti perché è conforme a una legge. Dio conosce una legge sola, la legge dell'amore, la legge della carità, la legge che porta il cuore dell'uomo a dare se stesso per la salvezza altrui. Le statistiche in questi giorni dicono che in Italia i matrimoni stanno divenendo tantissimo, soprattutto i matrimoni poi celebrati religiosamente. Questo perché? Perché sta entrando sempre di più la visione del matrimonio come un bene da godere. Due si uniscono per godersi l'uno dell'altro, ma non è questo lo scopo del matrimonio, questa è una noia. Anche se apparentemente può abbagliare, si possono trovare dei vandaggi, ma in realtà se il matrimonio, l'unione non si apre alla generazione di figli, non si apre al dono personale verso l'altro, cari fratelli, è un fallimento e la gran parte dei matrimoni che stanno fallendo si trovano proprio in questa condizione. È nella natura, non possiamo negare ciò che Dio ha creato. Questa è la natura di Dio. E quindi tu come cristiano non devi ritenerti a posto perché adempia dei comandamenti, devi ritenerti a posto quando non vivi più per te stesso. Il marito non si appartiene, la moglie non si appartiene, i genitori non si appartengono, ciascuno appartiene all'altro, la moglie del marito, il marito di Cristo, Cristo di Dio, nessuno si appartiene, tutti apparteniamo. Quella presunzione di fare da noi stessi e fare della nostra vita quel che vogliamo è il modo migliore per sciupare l'esistenza, per vivere una vita noiosa, senza senso, per cui alla fine vale la pena anche distruggere questa vita. E vediamo quanti suicidi si stanno verificando attorno, quanta disperazione, se teniamo presente che anche la droga è una maniera per autodistruggersi, così l'alcol e via dicendo, ecco il Signore sta chiamando la Chiesa a evangelizzare, allora tu sei chiamato a evangelizzare, ma proprio perché questo sia possibile, occorre che tu abbia una tua vita interiore. Cos'è la vita interiore? È il vivere non a livello di sensi, ma a livello di spirito, a livello di cuore, a livello di profondità d'animo, a livello spirituale. Abbiamo visto in altre circostanze come noi uomini possiamo vivere la nostra esistenza a livello di sensi, a livello razionale e a livello spirituale, per cui una persona possa dominare i sensi e il suo comportamento sarà legato al gusto dei sensi, all'appagamento dei sensi e purtroppo sono tanti quelli che oggi si stanno riducendo a questo stadio. Occorre approfondire, tanto è vero che quando noi vediamo delle cose senza senso diciamo che quello è matto, cioè non usa la ragione. Noi possiamo vivere allora a livello di ragione facendo trionfare la ragione, ma la ragione non coglie certi aspetti profondi dell'animo umano, solo lo spirito coglie le profondità del cuore dell'uomo. San Paolo, una lettera ai Corinti, dice che nessuno conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è lui. Così nessuno conosce i segreti di Dio se non lo spirito di Dio. Ecco, noi dobbiamo vivere facendo dominare in noi lo spirito santo, lo spirito di Dio, che scruta le cose di Dio. E allora questo livello di spirito ci porta a interiorizzare la parola di Dio. Ciò che Dio ci rivela, ci comunica, diventa vita della nostra vita e permette allo spirito santo di agire lui in noi. Allora noi viviamo in comunione con Dio. Ci sono tanti uomini sposati, fratelli, che annunciano il Vangelo per il mondo con grandissimi frutti, compiando anche prodigi. Non è questione di essere consagrato in una vita religiosa o sacerdotale. E l'importante è essere consagrato a Gesù Cristo e quindi camminare in comunione con Lui. Ecco, allora il bisogno di partecipare la parola di Dio agli altri, ma partendo però da una vita interiore. E questa vita interiore va coltivata, prima di tutto, con l'ascolto della parola, meditazione della parola, riferimento alla parola, sottomissione alla parola di Dio. E questo ci permette allora di cambiare le nostre relazioni, cominciando dalla famiglia. All'interno del matrimonio le relazioni cambiano quando ci si fa dominare dalla parola di Dio e dallo spirito di Dio. Ma le moglie allora iniziano una comunione profonda. Allora c'è una potenza in quella coppia, c'è una potenza in quella casa, c'è una grande comunicativa verso i figli, un arricchimento che altri si sognano, perché c'è una vita interiore. Ora questo è necessario in modo particolare per evangelizzare, per comunicare il dono di Dio agli altri. E il Santo Padre quindi richiama questa necessità di cercare non quello che piace agli uomini, ma cercare invece ciò che piace a Dio. E uno dei mezzi per coltivare appunto la vita interiore è innanzitutto la preghiera di adorazione, il mettersi davanti a Dio e arrendersi a Lui. Come un polviscolo che si mette davanti a una montagna, Dio è infinito nel suo amore e io mi perdo tra le sue braccia. Mi lascia avvolgere dalla sua presenza, dal suo amore, perché la sua vita permi ogni aspetto della mia esistenza. E il cuore ha bisogno di saziarsi di questa presenza divina. E come abbiamo visto ancora, c'è la preghiera di meditazione. Che cosa è la preghiera di meditazione? E' la preghiera in cui l'uomo riflette sulla parola di Dio. Non solo ascolta, ma riflette, medita, contempla ciò che Dio gli dice e lo fa penetrare nel profondo, lo stabilisce nel suo cuore. Potremmo riassumere la preghiera di meditazione in tre momenti essenziali. Prima di tutto, quando si medita, la prima cosa da fare è mettersi davanti al Signore, richiamare la presenza di Dio. Ma poi si prende un testo sacro, un testo della parola di Dio, un insegnamento della Chiesa, un episodio del Vangelo, si può prendere una verità di fede, un brano di un santo, e si legge attentamente e ad agio per, prima di tutto, per capire ciò che si legge. In secondo luogo, oltre a cercare di capire, cercare anche di memorizzare nel proprio cuore quello che si sta leggendo. perché? Perché se leggo dopo poco dimenticato, tutto svanisce. Ma se in me si radica una verità, un principio, un detto, una parola che parla al mio cuore, questo rimane impresso dentro di me e mi accompagna poi, anche quando smetto di pregare, per cui vado a lavorare, questa parola mi accompagna. i maestri della vita spirituale paragonano quest'opera a quello che è la digestione del bue, che mangia la biada, la butta nello stomaco e poi rimurgina quando ha mangiato, lo rimurgina fino a che poi lo rimanda nel destino perché si è assorbito. Così, quello che Dio ti dice, tu lo devi comprendere, fissare dentro il tuo cuore e ruminarlo, cioè gustarlo, spezzettarlo ed ecco la seconda fase, quello di gustare quello che il Signore ti ha detto per farlo penetrare nell'intimo del tuo cuore, per fissarlo nella tua mente, ancora, oltre a gustarlo, applicarlo a se stesso, applicarlo a se stesso. Cosa dice questa parola alla mia vita? Come si può realizzare questa parola? Cosa mi invita a cambiare? A che cose mi stimola a fare? Ecco allora, l'applicazione a se stesso, la parola mi deve convertire, la parola mi deve mettere in movimento, la parola che Dio mi dà non mi deve lasciare come mi ha trovato, come un'acqua stagnante, ma come una sorgente che gorgoglia, che scatola da nuova vita in continuazione, così deve essere la parola che Dio mette dentro il tuo cuore. E caro, la seconda fase della meditazione, rimorginare quello che Dio ti ha detto, gustare, gustare, goderne la bellezza, la dolcezza, ma anche applicare a se stesso quello che il Signore ti ha detto, come si applica la tua vita, come si applica alle situazioni, alle attività che svolgi e via dicendo, perché la parola ti deve mettere in condizione di cambiare la tua vita adeguarla alla volontà di Dio. E terzo, un momento della meditazione, quindi il primo momento è leggere, capire, e fissare, memorizzare, secondo momento, è il momento del gustare, dell'applicazione a se stesso, terzo momento è quello della contemplazione, forte quella parola, si alza lo sguardo a Dio per rendergli grazie, per adorarlo e tacere davanti a Lui perché non siamo più noi a pregare, ma Lui a pregare a noi, meglio Lui a parlare a noi. Questo tipo di meditazione, fratelli, alimenta sempre l'intimo del cuore dell'uomo, alimento quello che dicevamo si chiama vita interiore, perché l'evangelizzazione deve partire da una vita interiore matura, un genitore che parla ai propri figli ma dice parole che non nascono da un cuore che sente, da un cuore che ama, da un cuore convinto, sono tutte cose che lasciano il tempo, che trovano, via, sono cose passeggere, ma quando parla l'anima, parla lo spirito, quello che tu dici penetra il cuore altrui. Padre dice una parola sempre che abbia detto un libro, perché dà una sapienza, comunica, arricchisce il cuore dei figli e di questo quando c'è bisogno oggi, fratelli? E quel che è vero all'interno della famiglia è vero anche nelle relazioni con il nostro prossimo. Perché? Perché appunto attraverso il prossimo la parola di Dio si comunica da uno all'altro. Quindi, terza fase della meditazione, contemplare, ringraziare, adorare, tacere, per lasciare che sia il Signore a parlare in noi. Conviene ricordare quel detto che il Papa cita nel suo documento, nella sua esortazione Evangelii Gaudium, prendendola dall'Evangelio annunziante di Paolo VI, anche in questa epoca la gente preferisce ascoltare i testimoni. ha sete di autenticità, reclame evangelizzatori che gli parlino di un Dio che essi conoscano e che sia loro familiare come se vedessero l'invisibile. Non si può parlare di cose fantasiose, si ha bisogno di comunicare al prossimo. Vede, fratelli, fin qui non stiamo dicendo di salire su un pulpito e di fare le prediche, stiamo parlando di quella che l'Evangelizzazione spicciola da persona a persona. Un altro mezzo per arricchire quella che è la vita interiore è, dice il Santo Padre, la lettura spirituale. Esiste una modalità concreta per ascoltare quello che il Signore vuole dirci nella sua parola e per lasciarci trasformare dal suo spirito e ciò che chiamiamo lezione divina. la lezione divina e la riflessione che si fa sulla parola di Dio. Leggo un brano, lo ripasso ad agio ad agio segnando i miei punti cosa sta dicendo, fisso punto per punto, cerco di entrare e penetrare nel significato di ciascuna di queste cose che mi vengono comunicate e rifissarlo dentro di me. Richiamiamo qui la meditazione e un modo questo di preparare anche la meditazione. La lettura spirituale può essere anche, fratelli, la lettura di un santo, la vita di un santo, la lettura dei suoi detti, delle sue opere, la lettura spirituale può essere la meditazione dell'insegnamento della Chiesa, tutto ciò che in qualche modo viene a arricchire il cuore dell'uomo, tutto prepara a questo incontro e prepara anche il cuore a rimanere alla presenza di Dio e a comunicare la sua grazia. Ora, volendo parlare di evangelizzazione, a chi dobbiamo noi rivolgerci per portare la parola di Dio, prima di pensare ai lontani, quelli che stanno all'altra parte dell'emisfero terrestre, dobbiamo cominciare delle persone che stanno vicine a noi, per esempio parenti che compongono la famiglia, coloro che abitano nella stessa area geografica, potrebbe essere opportuno prendere un foglio di carta e scrivere i nomi, diciamo, una ventina di quelle persone più vicino con cui trattiamo abitualmente. Fate una lista, congiate i familiari, parenti più prossimi con cui vi incontrate, colleghi di lavoro o di amicizie più strette e fate la lista, provate a chiedervi per ciascuno di loro ma che rapporto ho io con questa persona? Condividiamo qualche bene spirituale tra di noi? Condividiamo qualche valore di fede? C'è qualcosa che ci collega ma anche ci spinge anche a condividere la fede che abbiamo, le convinzioni, i valori, la fiducia in Dio, i progetti di amore verso il prossimo? Questo ci può aiutare a rivedere queste relazioni e a pregare per ciascuno di loro. Provate a pregare a qualche mal per ciascuno di loro. Signore, ti ho mai presentato la sua vita? Signore, ecco, ti presento le sue vicende, le sue necessità. Tutto questo ci può aiutare, fratelli, a cominciare a maturare le nostre relazioni e a rigenerarle e a rinnovarle secondo lo Spirito di Gesù Cristo che vuole che le nostre relazioni non siano carnale come dice l'Apostolo Paolo noi non conosciamo più nessuno secondo la carne e le nostre relazioni devono essere relazioni intessute di fede, di amore, di Spirito Santo. Padre, rinnovaci secondo lo Spirito del Figlio tuo e donaci di essere creature nuove per la tua gloria, per l'avvento del tuo regno e dona tutta la tua Chiesa lo Spirito missionario che animò il cuore del Figlio tuo quando facendosi uomo venne a dar la vita per la salvezza di tutti e non si risparmiò affinché nessuno andasse perduto. Te lo chiediamo per l'intercessione della Madre di Gesù Cristo e Madre Nostra la Vergine Maria che cammina con la Chiesa e condivide con i Suoi figli tutti i tesori di grazia che tu le hai comunicato perché anche noi condividiamo con lei la sua stessa gloria attesino la lode e la gloria per tutti i secoli e dei secoli Amen e il Signore fratelli vi benedica a tutti e il Signore